Sono Anna e sono AiutoVoca. Ho deciso di partecipare perché ho sentito il momento che era questo, il mio momento giusto per tirar fuori i miei attributi e soprattutto per vivere una vita che fino ad ora non mi sono permessa di farla. È cambiato in me l'approccio, la visione di come affrontare una determinata situazione e da tutti gli angoli possibili, da vederlo negli angoli possibili. Ho imparato in questi giorni l'unione del gruppo, della solidarietà, l'amore che ci unisce, la consapevolezza e mi porto a casa tutto questo. Nel mio progetto ho bisogno di persone, di aiuto e adesso lo sto cominciando a imparare a chiedere aiuto e ti ringrazio veramente tanto, ho tutto il cuore. Applicherò quello che ho scoperto manualmente, facendolo. E proprio facendolo, se ci sono degli scadini, imparerò anche a salire, anche con difficoltà. Questo avrà veramente un senso meraviglioso di trasformazione nella mia vita. Io già lo sapevo, nel momento che ho fatto il biglietto aereo. Era l'aspettativa che mi aspettavo, scusate il gioco di parole, ma è quello che ho trovato, la mia strada. Non sarà mai più come prima l'Anna, me stessa. Io qui lascio la parte vecchia di me e porto a casa un'Anna nuova. Una parola singola per descrivere questa esperienza è consapevolezza, unione. Non è una sola, però io la dico uguale. Unione. Saluto con tutto il cuore, un grazie di cuore a te, Patrizia, che mi hai dato modo di scoprirmi. E ancora, siamo all'inizio. Grazie con tutto il cuore.